Ne parlerò con la comunità scientifica di NYU tra pochi minuti qui a New York. Credo che sia veramente un momento decisivo per il nostro paese, ma anche per il ruolo che il nostro paese esercita in Europa. Il referendum è il momento per dire sì ad un processo riformista che l'Italia attendeva da moltissimi anni. La riforma costituzionale è la madre di tutte le altre riforme che stanno cambiando il paese. Questo è il messaggio che vorrei dare molto forte e molto chiaro ai giovani che saranno qui a confrontarsi con me.